Mi hanno messo un nascosto Dovete cambiare, siete due prede Ah, è vero, è vero, è un manicolo prete, eh vabbè È molto tardi È tardi, ho il cerebello a nanna Sai, è quasi lunedì notte Eh, bisogna di... è ora di farsi il seghe No, è tutta cosa? Eh, hai 30 però, hai 30 Devo partire su un video Vai, ehm Com'è che trovo a seguire? Non ci credo, cazzo, prima persona Merda Cazzo faccio Vai, dove c'è uno stesso segnalino Sì, all'attico Non devo! Cazzo faccio Nooo Si viene detto Ah, ehm, guarda che loro non ci sono No No Sono andati in ambito Ah, che bello No Cazzo Dove siete? Bro, ciò Cazzo Cazzo Ah no, lo sanno giocare con chat Flashers, c'è un killer che... delle prede Ma... e se fate cose tre? Cosa? Cosa tre? Eh, proprio se è male, coiore Dai, mira, perché essere più coisuale? No, non è vero No, non è vero Non dire balle No, non è vero No, non è vero Vabbè Lui era attente, ti può mentire Cosa ho fatto prima? Questo ce l'hai completo Cosa? Ah, no, purtroppo non hanno speso molti soldi Eh, allora sono nulli Poi... 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 Ah, è che ti caratterà la fortuna in un altro gioco Ce l'ho qua, mi sono andato Aspetta, vado al cassino e poi mi vedi da qui Ah! Sì Con due colpi! Con due colpi! Sì, pedovio Oggi Eh, lo so Proprio figo Ma che cazzo Sei già morto Però... Devevo nascondere questo Ah, sei iniziato pure te? Qualcosa esplos Eh, non me l'ho sentito solo io allora Ah, ecco vedi Boh, alcune volte esplodono, le robe E lì, non piove Che bello Tutto che cazzo stanno Si può chiudere la porta E' brutto però non sapere se sta arrivando, no? Davvero? Chi cazzo è che sta a morire? Io come sei... Ma che cazzo... Ma ce la fai ad entrare nel lattico? Eh, sono già entrato Eh, guarda cosa voleva fare nel lattico Un'altra parte Un attimo Ma che cazzo è il mio Che cazzo è il mio Ma è il mio Che cazzo è il mio Ma è il mio un whisky? si c'era qua dai cos'è questo? perchè? dai fufi basta basta poi c'è una domanda asia perchè acquisto un ufficio se qua puoi utilizzare un sito in internet quante ti è costato? ma soldier? è esattamente quattrocentoregni non più un polmone hai cercato non l'ho ancora preso ma è vero a forza napoli forza calabria ah io ho anche il parrucchiere gratis e l'ho notato infatti se fiume è un cognoto è proprio è proprio per pagare tanto ed è un parrucchiere con meno robe riguardo rispetto agli altri e con i veri negozi c'è quindicato che abbiamo due truffe ad un ufficio e barrucchiere però c'è la spa a questo ho fatto uno dove si è il piano intermedio a i 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 come non ti ho visto in che senso no non è vero non ti vedo ma non ci siete qui i 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